Non vedere più Garrison Rochelle nel cast di Amici 2019 è stato certamente un colpo al cuore per gli affezionati del programma. Non sappiamo in realtà se sia stata una scelta del coreografo o di Queen Mary, eppure il talent ha bisogno di novità. Davide Maggio, infatti, rispondendo ai curiosi su che fine avesse fatto Garrison, ha detto ad un certo punto un ricambio ci sta. Che cosa fa adesso il 64enne statunitense dopo aver terminato la sua avventura ad Amici? Garrison è stato ultimamente impegnato nel musical Un papà sotto l'albero, come abbiamo appreso sul suo account Instagram. Resta da capire se sarà presente almeno al serale di Amici.